L'ospedale a cui si rivolge Prendi un cuscino Ha già avuto una crisi simile? No, no Come si chiama? Elias Julienne, il cuscino! Julienne, va a prendere il cuscino! Può mettere la giacca sotto la testa, per favore? Sì, sì È passato, Elias Elias Elias, mi senti? Mi senti, Elias? Elias Elias, mi senti? Lo chiami ancora? Elias Elias, sono la mamma Sono la mamma, Elias Mamma Sono qui, tesoro mio Sono qui Amore